Siamo alle battute conclusive di SmartVinning Expo e qui possiamo tirare le fila in un stand assolutamente autorevole come quello di Cipnet, brand leader per quel che riguarda la connettività wireless e abbiamo la possibilità di scabere due battute con Alessandro Mauri che è uno dei soci titolari di Cipnet, prego. Sì, buongiorno, allora volevo ringraziare l'organizzazione perché comunque questa fiera è un po' la prima che riusciamo a fare in presenza da quando il mondo ci è cambiato, è un momento che ci ha permesso di ritrovare partner che diciamo così lavorano con noi da tanto tempo e anche un modo per incontrarne di nuovi, quindi speriamo poi che anche dalle prossime edizioni ci rischia un ritorno a una grande affluenza e tanti nuovi contatti. C'è qualche vostro prodotto che incontrata un particolare successo? Allora sì, diciamo che questo sistema che facciamo di alta affidabilità che serve per la business continuity è un servizio innovativo che le aziende dovrebbero adottare, noi siamo stati fra i precursori, sono diversi anni che lo proponiamo, pensiamo che sia il futuro, cioè internet deve essere sempre disponibile in azienda. Grazie, grazie dottor Mauri, arrivederci.